La Chiesa italiana riunita a Firenze medita sulle parole del Papa, i delegati colpiti dall'invito a uscire, incontrare, ascoltare la gente. Papa Francesco all'udienza generale, è triste, una famiglia nella quale non si parla, stare insieme a tavola è fondamentale. Casarza Ligure mette in trappola chi abbandona i rifiuti, in arrivo tre telecamere, novità in giunta anche in tema di allerta meteo. Le aziende zootecniche in difficoltà, prezzo del latte troppo basso, oggi mobilitazione nazionale promossa dalla Coldiretti. Chi apre il cuore al bene trova la chiave della propria vita, così il Vescovo presiedendo la festa di San Martino a Zoagli. Pallacanestro in Serie D, bella prova del villaggio, vittorioso sul bordighiera 67-33, debutto vittorioso delle ragazze della polisportiva Lavagna nel campionato di Serie B. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. Sogno una Chiesa italiana vicina alla gente, che non sia ossessionata dal potere e che si faccia guidare senza paura dal soffio dello Spirito Santo. E' uno dei passaggi forti delle parole pronunciate dal Papa durante la sua visita a Firenze. Tra queste anche il desiderio di una Chiesa inquieta, capace di uscire e ascoltare la gente, piuttosto che chiudersi in se stessa. La sintesi nel servizio. Dal capoluogo toscano, culla dell'umanesimo, il Papa esorta a costruire un mondo nuovo, dove nessuno è lasciato ai margini o scardato, dove chi serve è il più grande, dove i piccoli e i poveri sono accolti e aiutati. Grande la gioia dei fedeli per la presenza di Francesco allo Stadio Franchi di Firenze. Il Santo Padre indica a tutti la strada verso la salvezza. La nostra gioia è anche di andare contro corrente e di superare l'opinione corrente che, come allora, non riesce a vedere in Gesù più che un profeta o un maestro. Questa verità della fede è verità che scandalizza, perché chiede di credere in Gesù, il quale, pur essendo Dio, si è svuotato, si è abbassato alla condizione di servo, fino alla morte di croce. E per questo Dio l'ha fatto Signore dell'universo. Stamane, invece, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Papa ha incontrato i partecipanti al convegno ecclesiale nazionale. Sogno, ha detto, una chiesa italiana vicina alla gente, che non sia ossessionata dal potere e che si faccia guidare senza paura dal soffio dello Spirito Santo. Preferisco una chiesa accidentata, ferita e sporca, per essere uscita per le strade, piuttosto che una chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Una chiesa umile e inquieta, dunque, come titola oggi il quotidiano avvenire. Tanti gli spunti di riflessioni offerti dal pontefice a Firenze. Le parole del Papa hanno colpito i 2.500 delegati presenti al convegno ecclesiale nazionale di Firenze. Ieri eravamo presenti a Firenze. Sentiamo allora alcune interviste, alcune voci raccolte da Don Alberto Gastaldi e Paolo Solari. Cosa l'ha colpita di più di queste parole? La normalità della sua cucciutaggine di portarci nel Vangelo. E quindi lui ci fa capire e ci dice costantemente che Gesù è il tutto, il Vangelo è il tutto e lui testardamente continua su questo, dove dice che chi vuole essere il primo sia il servo di tutti e che l'amore è accogliere lo straniero, accogliere il carcerato. Ci ha messo in guardia rispetto ad alcuni rischi, ci ha invitato ad una visione positiva del mondo perché il mondo è amato da Dio, ha dato il suo figlio per il mondo e aprire questo confronto aperto, il desiderio di annunciare il Vangelo che ci rida gioia. Guardo veramente a questo convegno come a un grande dono per cui porto veramente una gratitudine infinita nel cuore al Signore e veramente in questi giorni sto sperimentando quel piacere spirituale di essere popolo di cui ci parla Papa Francesco alla fine dell'Evangelio i Gaudium e penso sia qualcosa di veramente bello e straordinario. C'è un'emergenza educativa da affrontare e da affrontare in dialogo. Le parole del Papa stamattina ci spronono, è un dialogo da fare tutti insieme, bisogna veramente fare alleanza con tutti coloro che sono disposti a educare con una vera attenzione alla persona. Bisogna uscire dai perimetri dove ci si trova già tra di noi, bisogna appunto uscire verso chi può essere interessato ma non sa di esserlo e quindi è stato un modo per uscire e poi è stato un modo per ascoltare perché l'ha detto anche Papa Francesco questa mattina che la Chiesa che non ascolta, che non sta vicino, che non accompagna non sa cosa deve fare. Infatti siamo partiti dalle esperienze delle diocesi, movimenti e associazioni per scrivere la traccia di lavoro. Questo è stato anche secondo me un bel movimento un po' diverso da quello di emettere dei documenti già preparati prima di incontrare le persone. Veniamo a questa mattina, il Papa ha preseduto l'udienza generale in piazza San Pietro, Francesco ha proseguito la catechesi sul tema della famiglia. Allora ascoltiamo un passaggio delle sue parole. Una famiglia che non mangia mai quasi insieme o in cui a tavola non si parla ma si guarda la televisione o lo smartphone è una famiglia poco famiglia. quando i figli a tavola sono attaccati al computer e non si... al telefonino e non si ascoltano fra loro e questo non è famiglia. è un pensionato. E siamo ora alla cronaca del nostro territorio andiamo in Val Petronio contrasto all'abbandono dei rifiuti e nuovo sistema di allertamento della popolazione sono due provvedimenti approvati di recente dalla giunta di Casarza Ligure telecamere per mettere in trappola i furbetti dei rifiuti Casarza Ligure scende in campo contro l'abbandono sempre più diffuso di sacchi della spazzatura o ingombranti che invece di essere gettati nelle isole ecologiche finiscono a bordo strada causando danni ambientali e un esborso maggiore di denaro pubblico di qui la decisione della giunta di dotarsi di occhi elettronici. Che metteremo soprattutto nella zona del Bracco e in località Valle Scura segnaleranno le targhe di coloro che vanno e abbandonano i rifiuti quindi noi vogliamo lanciare proprio un segnale a tutti coloro che vengono nel nostro comune per abbandonare i rifiuti dove non si può ricordo che c'è anche un divieto di conferimento per i non residenti verranno sanzionati aspramente. Quante saranno le telecamere? Per il momento ne abbiamo prese tre che però le faremo girare quindi verranno diciamo prese dal nostro personale e posizionate nei luoghi più delicati senza logicamente dire dove ma verranno segnalate con le apposite cartellonistiche l'apposita cartellonistica prevista dalla legge. Seconda decisione di giunta il comune si dotterà di un nuovo sistema per avvisare i residenti in caso di allerta meteo o per problematiche di interesse pubblico. In pratica sarà inviato un messaggio vocale a tutti i numeri telefonici registrati. I telefoni fissi, quelli che si sono registrati nell'apposito elenco riceveranno direttamente la chiamata senza dover fare alcunché mentre per i telefoni cellulari invito tutta la cittadinanza a iscriversi o tramite il sito del comune o anche precarsi direttamente in comune e il nostro personale procederà all'iscrizione. Dopo gli interventi di messa in sicurezza già attuati il comune guarda avanti. La giunta ha chiesto alla regione un contributo per affrontare la reggimentazione delle acque soprattutto in zona costa di Verici. Altro progetto in programma riguarda il bacino del torrente Cacarello. Abbiamo già un accordo con la provincia che vogliamo portare avanti per la sistemazione dell'area lì del centro dove c'è il comune che prevede quindi la messa in sicurezza di questa zona. Inoltre cercheremo di portare avanti un sistema di sirene che possano comunicare alla cittadinanza possibili problematiche su questa zona. In tema di raccolta differenziata a breve il comune di Casarza Ligure invierà a tutti i residenti un pieghevole con le indicazioni per un corretto conferimento dei rifiuti il calendario e anche i numeri utili. Cambiamo tema gli allevatori vengono remunerati sempre meno per la produzione del latte mentre i consumatori consigliano a pagare sempre la stessa cifra. A causa di questo meccanismo in Italia stanno chiudendo molte aziende zootecniche. Il problema oggi è stato sollevato dalla Coldiretti che ha organizzato una manifestazione nazionale. Un presidio si è tenuto anche a Genova sul piazzale antistante il terminal Traghetti dove erano presenti circa un centinaio di allevatori. Sentiamo. Da chi dipende questa situazione? Dipende da questo sistema perverso che ormai si è innescato sul settore latiero caseario italiano dove una multinazionale la Lactalis è ormai proprietaria dei più grandi gruppi italiani Farman, Locatelli, Invernizzi e Galbani e che decide e fa lei il prezzo e sta mettendo in ginocchio tutta la zootecnia italiana. L'anno scorso i produttori di latte percepivano sugli 0,43-0,44 centesimi per ogni litro di latte prodotto oggi siamo a 0,33-0,34 centesimi 10 centesimi in meno che stanno mettendo in ginocchio tutta la zootecnia da latte italiana. Tra l'altro è stato pubblicato il lavoro svolto da Ismea che è la parte economica del Ministero dell'Agricoltura è stato pubblicato due o tre giorni fa in cui si dice che un litro di latte in Italia deve essere venduto minimo a 40 centesimi perché copre a malapena i costi di produzione. Noi oggi siamo sotto i costi di produzione lavorano in perdita le aziende ma la cosa più grave è che un litro di latte i consumatori costa sempre uguale i consumatori non hanno avuto un vantaggio ma poi c'è bisogno di puntare molto sul discorso delle origini in etichetta una busta di latte UHT su quattro venduti in Italia contiene latte italiano su due mozzarella venduti in Italia una è di provenienza estera se lei pensa che in un anno hanno chiuso mediamente tre stalle al giorno e si sono persi più di 32 mila posti di lavoro in un anno solo se dovesse continuare ancora così per un altro anno scomparirebbe letteralmente la zootecnia dall'arte italiana. Veniamo in diocesi oggi la chiesa fa memoria di San Martino diverse le comunità che celebrano la solennità tra queste la parrocchia di Portofino dedicata al santo oggi alle 17 la messa presieduta da Don Giuseppe Culoma festa anche a Zoagli per il titolare della parrocchia la messa oggi sarà alle 17.30 nei giorni scorsi nella chiesa proprio di San Martino di Zoagli il vescovo ha conferito la cresima cinque giovani c'eravamo anche noi vediamo San Martino giovane cavaliere dell'esercito romano che si fermò davanti al povero bisognoso esempio ancora oggi per gli uomini che cercano il significato della propria vita ne ha parlato il vescovo a Zoagli durante la festa del santo titolare della parrocchia nell'occasione cinque ragazze hanno ricevuto il sacramento della cresima l'invito di Monsignor Tannasini per loro e per tutti è di non chiudersi nell'indifferenza ma aprire il cuore che cosa darà significato alla mia vita che cosa mi aiuterà a vivere una vita importante significativa io ritengo che appunto quello che è successo a Martino sia un evento che può parlare anche a noi se apri il tuo cuore al bene da compiere avrai trovato la chiave della tua vita la festa di San Martino è stata l'ultima presieduta da Don Sergio Chiappe che presto lascerà zoagli centro per guidare i fedeli di Sant'Ambrogio molteplici le emozioni provate dal sacerdote che al nuovo parroco lascia una comunità con molti giovani sui quali credere uno si porta dietro alla nostalgia della festa della gente delle persone le persone che hanno seguito la comunità che vengono a messa che partecipano che collaborano anche quelle che forse vengono poco in chiesa ma con le quali si è ristorata un'amicizia mi porto dietro tutto dentro tutto e credo che sia il numero più grande che possano farmi congedandomi da San Martino di Zoali naturalmente io credo che anche nei momenti più di nostalgia dobbiamo sempre guardare a Gesù quindi lui mi ha fatto capire che in questo momento mi chiede un sacrificio anche umano di dover fare un cambiamento ma me lo chiede in quel grande progetto d'amore che sento che ha per me e che ha per questa comunità e per la chiesa continua l'opera dei fedeli di San Terenziano a Leivi nel custodire la cappellina che si erge nel cuore del borgo l'edificio meta dei fedeli di almeno quattro parrocchie è stato sottoposto a un intervento di restauro inizialmente i lavori dovevano riguardare il campanile e la parte della copertura successive indagini tuttavia hanno messo in luce la necessità di un intervento più approfondito con aggravio della spesa complessiva da sostenere per completare l'opera a questo scopo è stato organizzato un pranzo che si terrà nel salone della chiesa di San Ruffino di Leivi domenica 22 novembre alle 12.30 l'intera comunità parrocchiale cerca di contribuire al mantenimento della cappella le prenotazioni si chiudono in questi giorni chi volesse aderire può contattare il parroco telefonando nelle ore serali allo 0185 31 90 45 oppure al cellulare 320 0555 475 Ora la linea alla rassegna stampa vediamo così i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi e poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti con la pagina dello sport Avvenire titola con le parole del Papa chiesa umile e inquieta discorso di indirizzo del Papa al convenio ecclesiale di Firenze dite no alle tentazioni per essere sempre con la gente lontane dal potere prima di arrivare a Firenze è stato anche a Prato per dire no all'illegalità lavoro degno per tutti e poi avvenire ospita sulla prima pagina anche un intervento firma Matteo Renzi dal titolo non solo migranti per l'Africa un impegno vero vertice a Malta l'intervento del Premier all'interno di avvenire scommessa continua altro boom a ottobre in tutto il mese gli italiani hanno puntato 580 milioni oltre 4,5 miliardi nell'intero 2015 incremento del 30% rispetto allo stesso periodo del 2014 crescono le giocate nelle agenzie tradizionali ma il vero balzo è su internet quindi diciamo il gioco d'azzardo a portata di tutti anche dei minorenni la moratoria di Napoli via al giro di vite su sale e slot e orari il comune ha deciso di censire i luoghi sensibili per evitare nuove aperture il Parlamento ascolti gli enti locali intanto è stato adottato in commissione il testo base per il divieto agli spot per appunto le società che gestiscono l'azzardo siamo sul secolo XIX IT raddoppia 1 miliardo e 500 milioni in 10 anni Renzi presente al Polo di Milano l'industria cresce ripresa più forte l'Italia crea 469 mila posti di lavoro quindi nuova base per l'IT ma dicono sul secolo XIX la sede e il cervello restano a Genova per la politica il presidente della campagna De Luca ha indagato corruzione di un magistrato e poi il titolo ancora giù fin cantiere perde 96 milioni e Mangoni se ne va per lo sport Zenga accusa cacciato per i tifosi Montello resta in Polo ma spunta anche Mazzarri e poi lo scandalo internazionale del doping doping shranks la città gulag per i campioni Russia isolata Putin alza la voce i dipendenti dell'ATP bloccano Genova vediamo all'interno del secolo XIX se non si trovano subito i soldi dopo la fine dell'anno c'è una sola strada i libri in tribunale manifestazione di protesta nel cuore del capoluogo poi incontro con gli assessori Berrino e Vassallo e un nuovo sciopero all'orizzonte proclamato per il primo dicembre ieri la stensione del lavoro hanno aderito il 68% ma i sindacati dicono forse era di più sempre all'interno del secolo XIX Chiavari cambiano i parcheggi in centro in piazza Matteotti cancellati i posti intorno al monumento rispunta la pedonalizzazione di questa zona i posteggi diventano da zona disco a pagamento di fronte alle poste in piazza nostra signora dell'Oto come vediamo qua dalla foto ma l'ASCOM è contraria su tutta la linea il presidente rogero all'attacco ostacolato anche lo shopping di fine anno perché infatti nei giorni festivi 6,8, 13,20 di dicembre le strisce blu si pagano come nei feriali sbagliato chiudere il cuore cittadino e far pagare parchi vicini alla stazione per gli ultimi aggiornamenti andiamo subito in redazione dove è pronto Alberto Viazzi a te Alberto bene grazie due notizie di servizio che hanno a che fare ambedue con l'acqua intanto è stata ripristinata l'erogazione dell'acqua a Cogorno in una parte del territorio comunale questa mattina era stato sospeso il servizio idrico la mancanza d'acqua è derivata da un guasto elettrico alla stazione di pompaggio i tecnici della società acqua potabile hanno risolto il guasto e poi invece a Chiavari per eseguire la riparazione di una perdita sulla tubazione principale della rete idrica sarà nuovamente interrotta l'erogazione dell'acqua potabile in tutto il territorio comunale questa notte più precisamente il provvedimento adottato da Idro Tiguglio sarà in vigore a partire dalle ore 21 di questa sera sino alle ore 7.30 di domani mattina giovedì 12 novembre da segnalare che in questa parentesi di tempo potranno verificarsi cari di pressione con mancanza d'acqua e poi in fase di riapertura dell'acqua potrebbero verificarsi temporanei intorbidimenti dell'acqua dalla redazione è tutto bene grazie siamo allo sport parliamo di pallacanestro in serie D regionale torna alla vittoria il villaggio sport San Salvatore che tra le mura domestiche ha battuto la rarinantes bordighera 67 a 33 i villaggini sono partiti con grinta e hanno terminato il primo quarto sul punteggio parziale di 30 a 6 e dunque hanno amministrato con la giusta intensità la restante parte di gara dopo le prove opache contro Albenga e Rapallo era importante cambiare marcia ha commentato l'allenatore Marco Annigoni a fine gara il campionato è molto equilibrato e pertanto è importante non perdere punti quando si gioca in casa se l'obiettivo è il salto di categoria concluso nel girone unico della serie D da segnalare la vittoria della Val Petronio Casarza 67 a 58 nel derby contro l'Alcione Rapallo nel prossimo turno il villaggio giocherà in trasferta sul parquet dell'Ausilium Genova partita esterna anche per il Casarza in casa del Bordighiera mentre l'Alcione Rapallo ospiterà il Busal intanto sulle immagini della partita del villaggio che state vedendo diamo uno sguardo anche agli altri campionati in serie C Silver il Sesti Levante ha perso in casa con il basket follo 66 a 72 sconfitte anche per l'Aurora Chiavari in trasferta contro l'Ardita Juventus Genova 72 a 68 e per la Tiguglio Sportime battuta in esterna dal Cus Genova 70 a 58 nei campionati femminili c'è da segnalare la buona partenza dalla polisportiva Lavagna vittoriosa nella prima parte del campionato interregionale di serie B le lavagnesi inserite nel girone organizzato dal comitato regionale piemontese hanno ospitato in casa le torinesi della Beinaschese partita che è terminata con un netto 68 a 34 con questa notizia si conclude il nostro telegiornale vi ricordo questa sera alle 21.10 una nuova puntata di Missione Mondo su Telepaccio 1 Canale 15 tra gli altri argomenti potete ascoltare uno stralcio della testimonianza tenuta da un padre missionario padre Giorgio Abram in Africa in Ghana testimonianza che si è svolta nei giorni scorsi a Santa Margherita Ligure per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti